Ciccioli belli giranti, buongiorno e bentornati dal vostro Dictator Lorenz. Siamo arrivati all'ultimo capitolo, il capitolo finale della nostra serie incredibile con lui e l'altro, con Julius e Vittorio Emanuele. Oggi cerchiamo di chiudere finalmente l'Europa e chiudere anche il vaccino del Mediterraneo per terminare la nostra serie in bellezza e andare a realizzare quello che è l'ultimo step della nostra ricerca alla Pan-Europa, manca solo lo Sviland, ma poi noi ovviamente per un discorso di, diciamo, di Border Gore, cercheremo comunque di andare ad annettere anche tutte quelle varie... Oddio, ma qua è vero, c'è Stalin! Ci siamo dimenticati di Stalin, mio signore! Ci siamo dimenticati di Stalino! Di Stalino! Iniziamo a depositarlo qua. Iniziamo a depositarlo lì. Perfetto. Noi potremmo anche pensare... potremmo anche pensare... di iniziare a convertire queste divisioni. di iniziare a convertire queste divisioni in divisioni autotrasportabili. Ordini? Pronto all'azione! Perfetto. Perfetto, perfetto. Facciamole trainare perché le abbiamo convertite. Ok. Tutto meccanizzato, mio signore. Prima di iniziare però, ragazzi, ci vuole la nostra immancabile sigla! Il piacere effimero della conquista, quella violenta. Quanto ci vuole per la Spagna, ragazzi? Settembre del 43, mentre invece qua a nord... Noi possiamo già dichiarare guerra. Possiamo dichiarare guerra agli stati baltici. E lo faremo. E lo faremo, mio signore. Via! Partiti! Partiti, partiti sugli stati baltici. Deutsch, mitel Africa. Uh, la mitel Africa è qua sotto. Dichiariamo anche su di loro. Dichiariamo anche su di loro. Ok. Qui è andato tutto. La Danimarca è già andata giù, eh. La Danimarca è andata giù, mio signore. No, qua sulla Finlandia abbiamo dei territori che non sono propriamente favorevoli. Ma potremmo sistemarli agilmente. Noi abbiamo il wargoal su Muscat. Noi avremmo anche il wargoal su Muscat. Però per Muscat, ragazzi... Io attenderei un attimo. Perché, se non erro, c'è dentro anche la Francia col Muscat. Infatti, attendiamo un attimo. Noi abbiamo anche il wargoal pronto su Portogallo. E Norvegia. Beh, ma quella, chi se ne frega. Lasciali là sulla loro isola a mangiare gli stoccafissi. A mangiare gli stoccafissi. Via. A rinforzare. Siamo irresistibili. Soltanto la Finlandia è quella che ci sta dando, forse, un pochino più di problemi. Il quantitativo di generali, ragazzi, che abbiamo è veramente spaventoso. È veramente spaventoso. Intanto trainiamo per la Spagna. Ok, qui dovrebbe andare bene. Qui, per esempio. Buttatela sulla White Routeni. Almeno sistemiamo anche questo abominio di stato lì in mezzo. Con quel colore insulso. Con quel colore insulso. Allora, voi due. Dobbiamo rinforzare lì, però, eh. Sai che forse ci possiamo mandare i carretti di messe? Io ci manderei i carretti di messe qua. Per chiudere lì. Iniziate ad andare lì voi. Voi chiudete qua su Malmo. Chiudete qua su Malmo. Perfetto. Ottimo. Perfetto. Ok, anche la Finlandia comunque l'abbiamo pushata male, eh. White Routeni adesso verrà chiuso dalle nostre fanterie irresistibili. Dentro qua. Perfetto. E qui abbiamo effettuato una sacca che può essere chiusa tranquillamente. Ordini. Fuoco nemico. Comandi. Pronto all'azione. Chiudere lì. Avanzate. Perfetto. Non fermatevi. Ottimo, ottimo, ottimo ragazzi, ottimo. Procede bene anche in Finlandia. Sono arrivati i carri dell'amore. Sono arrivati i carri dell'amore. Io direi che poi potremmo andare a farci... Anzi, sai che potremmo farlo adesso? In realtà. Sai che potremmo farlo adesso? No, ma ci recuperiamo, ci recuperiamo quelle divisioni qua. Allora, è pronta la giustificazione sull'Almeria. Andiamo congiunto. Attenzione perché la Spagna adesso è entrata con il Portogallo e con l'estadio messicano, eh. Pronto, signore. Uff, cacchio, 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 cacchio. Non abbiamo tolto... Comandi. Non abbiamo tolto qua. Allora, attenzione perché qui adesso a noi toccherà mandare... Toccherà mandare delle divisioni. Anche sul Portogallo. Sì, signore. Eh sì. Per forza di cose. Per forza di cose. Ok. Dobbiamo essere rapidi qua. Per forza. Holdare, tenerli. Holdare, tenerli. È la guerra più totale, ragazzi. È la guerra più totale. Allora, è scoppiata anche con il Rage, eh. È scoppiata anche con il Rage. Stanno dilagando la Middle Africa qua sotto. Attenzione, 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 attenzione. Buttiamoglieli lì. Muscat è entrato. Muscat è entrato. Perfetto. Chiudere Muscat, per favore, grazie. Chiudere Muscat. Perfetto. Ok, è andata giù la Spagna. È andata giù la Spagna. Qui stiamo chiudendo in maniera rapida la Danimarca con passo agile, felino, autarchico. Autarchico. Via. Perfetto. Questa rutenia di merda, riusciamo a chiuderla o no? Cioè, non vorrei capire. Vorrei capire. Muscat capitolato. Perfetto. Adesso andremo a recuperare le divisioni... Le divisioni di Muscat. Eh no, le palle. Questo staterello qua è indipendente. Col cazzo, non è indipendente. Non è indipendente. Dai, perfetto. Dobbiamo arrivare a chiudere qua, eh. Dobbiamo arrivare a chiudere lì. Ok, il Portogallo va giù, eh. Il Portogallo va giù. Qua su Lisbona gli è arrivato... Gli è arrivato un bordello, gli è arrivato. Gli è arrivato veramente un bordello. Ok. Perfetto. Sono sbarcati... Allora, sono sbarcati in... In Sardegna. Sono sbarcati in Sardegna. Sono sbarcati in Sardegna. Qua a nord ce la fanno? Chiudere, grazie. Ok, allora. Noi adesso dobbiamo... Scusa un attimo. Questi qua... Ordini. Via. Iniziate a spostarvi. Iniziate a spostarvi. Attenzione, perché qua prendono. Hanno preso, hanno preso, hanno preso, hanno preso, hanno preso, hanno preso, hanno preso. Allora, 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 tu. Cambio di programma. Cambio di programma. Cambio di programma Perfetto E' Luigi Lambretti E' Luigi Lambretti Qua si avanza anche in India ragazzi Si avanza anche in India Dobbiamo chiudere qua Assolutamente Dobbiamo chiudere assolutamente Correre Correre E avanti E avanti Perfetto 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 Qua pian piano Abbiamo isolato la capitale E' una guerra lunga Sembra veloce ma In realtà non lo è per nulla In realtà non lo è per nulla Il punto è che adesso ci hanno riaperto il Mediterraneo da sud Allora noi dovremmo Tirare fuori Altre divisioni qua Inoltre noi dovremmo aver tirato fuori delle meccanizzate Da qualche parte Dove cazzo le abbiamo piazzate le meccanizzate Dove cazzo le abbiamo piazzate le meccanizzate Pronto all'azione Eccole qua tipo Eccole qua tipo Ok andate a unirvi a queste Andate a unirvi a queste voi Pronto signore Pronto signore Chiudete la rabbia saudita voi Perfetto Perfetto Qua in India ci stiamo un po' overestendendo eh Lì in India ci stiamo overestendendo non poco Ok tutto distrutto qua Perfetto Oh cazzo Oh cazzo E questi parliamone Oh cazzo Ma come ci sono arrivati lì Dio santo Sì signore Ma come ci sono arrivati lì Ma come ci sono arrivati Dio santo Allora vediamo se riusciamo a salvarli Tirando su un porto L'unica cosa che possiamo provare a fare Attento Dubito fortemente Dubito fortemente Ma magari Riusciamo Magari riusciamo Se riusciamo a togliergli i porti Pronto all'azione Avanzate Se riusciamo a buttarli giù Alla via Perché così la pigliano anche loro L'attrition Allora La pigliano anche loro L'attrition Adesso noi il porto lì L'abbiamo conquistato Qua stiamo Pushando a sud In maniera violenta Dovremmo Buttarci qualcosa Lì Dovremmo Buttarci qualcosa Qua Non fermatevi Torno lì Comandi Queste stanno soffrendo Tantissimo Che le abbiamo salvate Che le abbiamo salvate Ok Le abbiamo salvate Perfetto Ottimo Allora Adesso dobbiamo cercare Di capire Qua Stoccolma Chiudiamo Per favore Grazie Che la facciamo capitolare Manca la Finlandia Questo stato di merda Qua che non vuole Niente capitolare Sta Ok Capitolata la Svezia Molto bene Giustificazione pronta Su chi? Ah La La cirenaica La cirenaica Perfetto 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 Si va dentro Anche in cirenaica Formazione Qua intanto In India Sembrerebbe Andare giù Tranquilla Ordini Io direi Io direi Voi Magari Andate Sul fronte indiano A rinforzo Andate sul fronte indiano A rinforzo Allora È capitolata Perfetto La Tripolitania Perfetto Allora Voi adesso Marciatemi Su Algeri E poi di qua E poi di qua Via Questi 29 Avanzate Via 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 Vai con Amedeo Cusani Vai con Amedeo Cusani È la guerra Più totale Perfetto Allora Dobbiamo Sistemare Anche la White Rutenia Qua Ok Perfetto Ce la facciamo A chiudere Questa sacca Allora Qui abbiamo Già Abbiamo i carri Ma facciamo una bella cosa Sfruttiamoli Sfruttiamoli Questi carri Sfruttiamoli Questi carri Perfetto Perfetto Ranna Verso Algeri Ranna Verso Algeri Che qua In the desert Si va Tunisi Beppe Si va Tunisi Allora Qui abbiamo Effettuato Perfetto Perfetto Questi 37 Chiudete Andate a chiudere Subito Su Rapidamente Finlandia White Rutenia E direi che poi Lì siamo a posto E direi che poi Lì siamo a posto Comandi Voi Voi potete essere Impiegati Su un altro Fronte Iniziate a venire qua Voi Che non si sa mai Ok La Finlandia Al collasso La Finlandia È al collasso Comandi E che qua Ci hanno saccato Qui ci hanno saccato Allora fate una cosa Voi Ma porca Troia Non si può Da qua Oddio Che fastidio Che fastidio Questi territori Insulsi Questi territori Insulsi Ok Lì li abbiamo Chiusi dentro Bene Adesso arriviamo Anche da qua Pronto signore Avanzate Fermati qua Fermati lì Torniamo a sud Allora A sud Qua Avanzate Direi che potremmo Chiudere una volta Per tutte Su Tunisi Qui si sta andando In Africa Qui si sta andando In Africa Pesantemente Chiudere tutto il Chiudibile Chiudere tutto il Chiudibile Perfetto Qua dobbiamo Iniziare a Riunificare Il mondo Sotto un'unica Bandiera Quella romana Autarchica Da collezionare E custodire Ok Tirate Tirate su Ceuta Tirate su Ceuta Madonna Che palle Che palle Questa Questa Roba Pronto Signore Pronto Signore Sì signore Oh Finalmente Andata giù Sta rutenia Di merda Finalmente Andata giù La rutenia Di merda Yes Anche qua Per favore Grazie Chiudete Chiudete Queste sacche Chiudiamo Queste sacche Grazie Ok Oh Perfetto 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 Adesso ci possiamo Ci possiamo Concentrare qua Pronto All'azione Sì signore E si chiude Sua Casa Blanca Oh Oh mio dio Sono sbarcati Aspetta 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 Che sono sbarcati Aspetta Che sono sbarcati Meno male Che abbiamo Lì le nostre Meccanizzate Dell'amore Meno male Che abbiamo Lì le nostre Meccanizzate Dell'amore Avanzate Avanzate Sì signore Sì signore Formazione Avanzate Lì che gli prendiamo Tutto lo snodo Fenoviario Qui del Maghreb Ma come fanno A ritirarsi Mio signore Non si possono Ritirare lì Però Cioè questa è Una fake news Questa è Una fake news Ma che è Cos'è sto bug Esatto Esatto Sì signore Pronto all'azione Perfetto Ordini Allora E' entrato anche Le canna da E' entrato le canna da Le canna da Dai 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 che qua ragazzi Questi qua Stanno Sono allo stremo Capitolato Il Mali Capitolato Il Mali E lì ancora Sapete che è ancora La Deutschland Mitte L'Africa Che tiene viva La guerra Lì sotto Questa è una guerra Che non possono Vincere Loro Oh 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 Ma porca Troia Ancora Sbarcano Questi Ancora che sbarcano Pronto signore Ancora che sbarcano Dov'è che me li ha Tirati giù Qua Buttiamoli dentro Qui perché se no Non riusciamo mica A difenderli I nostri porti Sono troppi Ok qua ci divertiamo Ad ammazzare Gente del Commonwealth Deve essere un'esperienza Eccezionale Vai ora Oh Finalmente È capitolata la Francia Direi anche Finalmente 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 L'altra Francia La Francia La fric La fric Africa Ah no Questo è il French National State Allora Aspetta però Ok Abbiamo preso Tutto quanto Abbiamo preso Tutto quanto Ok Abbiamo preso Tutto quanto Mio signore Tutto Todos En todos Dio benedica Le meccanizzate Che ci hanno salvato Il culetto Che ci hanno salvato Il culetto Questa roba qua Che cos'è Una fake news Ma noi possiamo Farlo finalmente Adesso Il fo No No non possiamo Fare il focus Perché Perché questi Non sono ancora Capitolati Ma non ci voglio Credere Mio signore Dai Ma non ci voglio Credere Dai Non ci voglio Credere Che non sono Capitolati Però Che palle Che palle Ad ogni modo Ad ogni modo Ragazzi Per oggi Per oggi Ci fermiamo Qua Il romano Impero È più esteso Che mai Abbiamo Riunificato Anche il mare Nostrum Nostrum E direi che Praticamente È solo Una questione Di tempo Ma ormai Siamo diventati Inarrestabili Sotto qualsiasi punto di vista Non c'è più Non c'è più al mondo Nessuno Che è in grado Di sconfiggerci Io Finirei Proprio qui La serie Nel senso che Andare avanti Ogni ulteriore Episodio Sarebbe un qualcosa Di estremamente scontato Visto e considerato Che non è più possibile Per nessuna IA in questa partita Cercare di Contrastarci Un minimo Io mi sono divertito Tantissimo Nel corso di questa serie Spero che sia stata La stessa esperienza Anche per voi Mi raccomando Tanti like Tanti commenti E fateci sapere Sotto nei commenti Se ci sarebbe Qualche mod Particolare O qualche serie Che vi piacerebbe Vedere su Earth of Iron In futuro Scrivetecelo Perché ne terremo Ne terremo sicuramente Conto In fase di valutazione E con questo Io mi congedo Si congeda anche Julius E l'imperatore Vittorio Emanuele III Io vi ringrazio E vi do appuntamento Al prossimo video Ciao belli Ciao belli